Buffera e maggioranza nel Consiglio regionale di ieri per la prima volta al centrodestra in aula va sotto sull'aumento delle volumetrie per 800.000 metri cubi in tre discariche abruzzesi. Decisivo il voto di quattro consiglieri di maggioranza assieme all'opposizione 5 Stelle. Il provvedimento era sostenuto dall'assessore della Lega Nicola Campitelli. A turbare la maggioranza in Consiglio il voto del capogruppo di Forza Italia Mauro Febo, del vicepresidente del Consiglio Roberto Sant'Angelo di Azione Politica e degli ex leghisti Simone Angelo Santi e Antonio Di Gianvittorio. maggioranza battuta per 14 a 9 a causa di questo strappo interno che ha fatto finire nel mirino gli assessori Campitelli e Liris poi per il bilancio. I toni sono stati in aula alti e in particolare le acquisite a Liris sono volate sulla vendita del sito del Covalpa, il centro lavorazione patate di Celano, per 7 milioni di euro che non sono ancora in cassa ma in parte destinati al lazzo di Chia di Pescara, la marineria in crisi e altro. Ma non è proprio così secondo l'assessore Liris. Le critiche sono arrivate dallo stesso Febo ma anche da Dincecco della Lega e Pettinari dei 5 Stelle. Il giorno prima del Consiglio era stato approntato un emendamento che destinava tutti i proventi della vendita del Covalpa, una centrale agricola, un punto di riferimento per quanto riguarda il mondo agricolo del Fucino, in particolare della cittadina di Celano su destinazioni che riguardano Chieti e Pescara per un equilibrio anche territoriale, per una giusta compensazione che un assessore regionale deve avere. Il sottoscritto non ha dato copertura politica all'operazione, ha disertato la maggioranza, una dialettica politica credo anche elementare, nel momento in cui non c'è stata una partecipazione, una condivisione, si ritiene opportuno non essere presenti per esprimere il dissenso. Un abbraccio a Mauro Febo, chiamandolo chiaramente a una collaborazione maggiore con la maggioranza, soprattutto in un clima elettorale che deve vedere il centro-destra unito. La maggioranza si divide e sfiduce il proprio assessore sul caldo tema dei rifiuti, sulle volumetrie per alcune discariche, non approvano la proposta dell'assessore, la rispediscono in commissione, così come noi chiediamo da tempo perché non ci convince su questo tema l'assenza della programmazione. E dall'altro lato siamo stati molto costruttivi sulla variazione di bilancio, ma continuiamo a sottolineare che è molto grave quello che la maggioranza ha fatto contro i sindaci della Marsica perché le risorse, sia per quanto riguarda le marinerie e l'Azù, potevano e dovevano essere trovate in altro modo. Il provvedimento sulle volumetrie torna dunque in seconda commissione. Era inaccettabile, ha commentato così il consigliere pentastrellato Francesco Taglieri, che ha ricordato come il progetto di ampliamento della discarica di Cerratina fosse stato già bocciato dal comune di Lanciano e da tante aziende. Si stanno esasperando i territori, ha detto. Siamo assolutamente contrari a questo provvedimento amministrativo, penso di poter parlare a nome di tutti, ma le dirò ancora di più. Siamo favorevoli alla proposta del collega Febbo che venga accolta. Grazie a tutti.